Ciao a tutti da me e dai miei nuovi capelli rainbow vi piacciono? Fatemelo sapere nei commenti e benvenuti in una nuova puntata di questa nuova rubrica Basic Trials in cui vi racconto il processo dell'anno Johnny Depp vs Amber Heard dunque perché sto facendo quest'altro video ne è uscito uno una settimana fa in cui ho cercato di riassumere quanto si sapeva fino a quel momento di tutto quello che è venuto fuori però ci sono ancora tantissime cose da dire siamo al 14esimo giorno di processo ed è finita la parte dell'accusa di Johnny Depp quindi tutte le testimonianze a favore di Johnny inizia invece, anzi è già iniziata e lo affronteremo anche in questo video la parte dedicata alla difesa di Amber Heard ma ci arriveremo con calma prima mi piacerebbe innanzitutto chiarire qualche punto parlarvi ancora degli ultimi testimoni o comunque delle cose più importanti venute fuori fino alla fine delle testimonianze a favore di Johnny anche perché ci sono state in realtà delle cose non proprio a suo favore che hanno giocato troppo a suo favore quindi ne parleremo insieme e soprattutto parliamo del primo testimone di Amber Heard allora, lo faremo mentre mi andrò a truccare vi scrivo tutti i prodotti giù nell'info box direi di prendervi una bella tazza di caffè, di tè non so, probabilmente riuscirete a fare un intero pranzo di Natale nel tempo che ci metterò a raccontarvi tutto ovviamente nel caso ve lo foste perso andate assolutamente a recuperare il riassuntone della puntata precedente ve lo lascio giù nell'info box e direi che possiamo cominciare cominciamo dal fatto che questo processo ha tirato fuori una serie di meme già viralissimi in cui magari entriamo nel merito dopo verso la fine però io mi sto informando sto guardando le dirette e in generale video di un canale veramente fatto benissimo che si chiama Legal Bytes ve lo scrivo giù nell'info box se capite l'inglese vi consiglio tantissimo i suoi video perché fa un recap ogni giorno di cosa succede e in più fanno le dirette con vari avvocati che spiegano cosa sta succedendo è veramente veramente interessante anche avere un punto di vista proprio legale che sicuramente è più attendibile di quello che vi posso dare io quindi io vi riporto un pochino quello che ho messo insieme guardando il suo canale e vari articoli vi voglio ricordare che questo processo è un processo per diffamazione quindi Johnny Depp deve dimostrare che l'articolo scritto da Amber Heard a dicembre del 2018 abbia effettivamente danneggiato la sua reputazione e la sua carriera solo in questo modo lui può vincere le accuse che lui muove a lei di violenza tra l'altro ecco per evitare di venire non so che questo video venga segnalato in alcun modo penso che userò delle abbreviazioni quindi quando parlo di violenza domestica dirò VDI e quando parlo di violenza parlerò di VDS ok? ci proverò comunque spero di non confondermi e di non confondervi soprattutto comunque il fatto che lui la stia accusando di VD in realtà è solamente una cosa in più ecco una cosa accessoria invece lei per vincere deve dimostrare che quello che lei ha scritto vero della VD e della VS perché lei l'ha accusato anche di BS da parte sua siano vere e a questo quindi deve allegare delle prove deve portare delle prove che finora non abbiamo visto in più ecco adesso vi parlo anche voglio un po' rispondere a qualche commento che ha scritto sì ma anche lui non è un vostro ha scritto dei messaggi terribili ci sono video foto di lui che spacca tutto adesso entriamo anche nei meriti delle colpe di Johnny Depp perché sicuramente non è uno stinco di santo ma in realtà sono riusciti già più o meno a spiegare tutto quanto quindi cosa è successo finora che gli avvocati di Amber Heard hanno provato adesso che tocca loro diciamo a far archiviare il caso hanno fatto una mozione per innanzitutto annullare delle testimonianze fatte da Johnny Depp e in più hanno provato a far archivare il caso basandosi sul fatto che non ci sono sufficienti prove per dimostrare le accuse ma che in realtà la sua reputazione era già stata messa a repentaglio da lui stesso con gli abusi di alcol e di droghe e in generale che dentro Hollywood non era più ben visto lui ovviamente la corte o meglio il giudice ha deciso di far proseguire il caso perché in realtà le prove a supporto di Johnny Depp sono più che sufficienti e tra l'altro questo ha dato modo agli avvocati di Johnny Depp di ricordare alla giuria tutte le prove che hanno portato quindi non è stata una gran mossa secondo me da parte dei legali di Amber Heard che non si stanno dimostrando un team di legali proprio non lo so si sono fatti parecchie gaff finora i processi in America funzionano in questo modo c'è una giuria che assisterà a tutte le giornate di processo e che non può informarsi al di fuori quindi questi poveri cristiani devono starsene tutto il tempo del processo penso proprio chiusi in un albergo non possono interagire al di fuori perché non possono subire pregiudizi verso il caso devono essere il più neutrali possibile per questa ragione quindi iniziano inizia l'accusa porta i suoi testimoni e in pratica interroga i propri testimoni portandoli a parlare il più possibile di quello che gli interessa venga riportato quindi non si possono fare domande leading ovvero che portino effettivamente una persona a dire qualcosa ma si fanno domande aperte a cui il testimone deve rispondere un po' a quello che si sente il problema di fare questa cosa e ne parleremo poi dopo perché è venuta fuori è che il testimone può correre il rischio di aprire dei vasi di Pandora e quindi facciano ammettere al processo delle prove che prima non c'erano che possono andare pro o contro uno o l'altra parte quindi dopo un primo interrogatorio in cui idealmente verranno fuori tutte le cose pro una parte e contro un'altra in questo caso quindi pro Johnny Depp contro Amber Heard inizia il contro interrogatorio la cross examination e quindi l'avvocato della controparte può fare tutte le domande che vuole e sarà il più possibile un interrogatorio portato a risposte sì o no cioè lascia poco spazio o comunque idealmente meglio che lasci poco spazio alla persona al testimone per articolare per argomentare perché rischia magari di fargli dire cose che è meglio che non dica quindi dipende un po' anche dal boh dalla bravura ovviamente dell'avvocato ma anche del testimone ci sono testimoni migliori testimoni peggiori la cosa migliore è che in quel caso il testimone risponda sì o no anche se questo magari può danneggiare la parte che in realtà vorrebbe difendere perché poi ci sarà ancora la redirect examination ovvero di nuovo l'avvocato della parte che ha chiamato quel testimone può reindirizzare un pochino la testimonianza dando un contesto perché magari appunto nella cross examination vengono fatte delle domande fuori contesto e quindi magari certo che uno può rispondendo sì solo sì o no e non potendo argomentare vengono fuori delle cose completamente decontestualizzate quindi il redirect serve proprio per dare un contesto e redimere un pochino la testimonianza e in questo devo dire che proprio gli avvocati di di Johnny Depp sono stati eccellenti fino quasi alla fine e adesso poi tra poco parleremo dell'ultimo giorno dei testimoni di Johnny Depp che è andato abbastanza male per lui quindi affrontiamo un attimo le colpe di Johnny perché appunto qualcuno mi ha scritto nei commenti appunto il nostro inco di santo mi ha scritto delle cose orribili allora essenzialmente nessuno qua ma neanche Johnny Depp in primis sta dicendo di essere un santo lui ha ammesso di avere tantissimi problemi di aver avuto tantissimi problemi riguardanti l'abuso di sostanze e di alcol ha tentato tantissime volte di disintossicarsi adesso è finalmente riuscito e in generale ha avuto anche episodi spiacevoli magari sui set si è presentato ubriaco magari ha avuto delle discussioni con delle persone sui set quindi lui sa benissimo di non essere una persona proprio equilibrata ma il suo discorso è io non l'ho mai toccata io non le ho mai fatto del male che sono le accuse che invece lei ha mosso nel suo articolo e lui quelle sta confutando non sta dicendo io sono un santo quindi amatemi assolutamente quindi nella cross examination degli evocati di Amber Heard con Johnny Depp sono venute fuori appunto una serie di accuse riguardanti i suoi messaggi scambiati con Paul Bettany e in generale anche dei messaggi magari che lui ha mandato a lei non propriamente bellissimi entriamo nel merito di questa cosa lui come vi ho già spiegato ma forse l'ho un po' sorvolato a sta parte nello scorso video perché c'erano tante cose da dire lui ha un umorismo molto macabro e voi mi direte sì ho capito però questo non giustifica quello che ha scritto lui ha scritto a Paul Bettany più o meno tessuali parole dovremmo bruciarla viva e lui le ha risposto no secondo me dovremmo affogarla io ho una piscina e lui ha risposto una cosa del tipo ve lo sto parafrasando mi approfitterò del suo corpo per essere sicuro che sia davvero morto ok siamo d'accordo che sono dei messaggi disturbanti se non fosse che e non voglio che suoni come una giustifica però alla fine un po' lo è queste frasi sono una citazione di un film di Monty Python e Paul Bettany ha già detto poi non so se non credo a questo punto che testimonierà perché se non è stato chiamato finora non penso che testimonierà comunque ha già detto e l'ha detto anche Johnny che è il loro film preferito cioè loro hanno legato su questo film e quindi nei loro messaggi continuamente ci sono citazioni a questo film perché entrambi hanno avuto un passato molto violento e hanno questo coping mechanism quindi questo meccanismo di autodifesa diciamo di reagire alle cose con questo umorismo proprio violento macabro brutto non si può dire che sia una cosa positiva però scrivere un messaggio del genere non vuol dire che una persona sia violenta e voglia effettivamente fare quelle cose io stessa quando un log mi spacca qualcosa in casa io corro dietro dicendo io ti ammazzo come una pazza però poi lo prendo e anche se veramente vorrei buttarlo giù dalla finestra lo riempio di baci e dico vabbè cosa devo farci se è così va bene così non sto dicendo che la violenza verbale psicologica la manipolazione non sia grave assolutamente lo è ma quando sfocia la violenza fisica è davvero pericoloso cioè davvero mette in pericolo magari una persona e quindi visto che quello di cui lei lo accusa è proprio quello di essere stato violento nei suoi confronti fisicamente e anche in altri modi vi giuro che quando entriamo nella parte dei suoi testimoni preparatevi cioè lui si difende dicendo io non ho mai fatto le cose di cui tu mi accusi oltretutto nel controinterrogatorio a Johnny Depp l'accusa cioè la difesa di Amber Heard non è riuscita a inquadrare il proprio caso nel senso che ha voluto mettere tutto il peso sulla sua sui suoi abusi sugli abusi di Johnny Depp di sostanze eccetera ma non ha portato prove a supporto delle delle accuse che lei ha mosso contro di lui uno si chiede davvero cioè quando le porteranno queste prove perché finora non ci sono mentre ci sono tantissime prove a supporto di quello che dice Johnny ah tra l'altro la ragione per cui hanno così tante registrazioni delle loro conversazioni audio e video è perché erano in terapia di coppia quindi era una richiesta del terapista o della terapista di portargliele quindi abbiamo scoperto questa cosa quindi il fatto che loro non abbiano portato queste prove fa un po' pensare che non ci siano perché quello sarebbe stato il momento di tirarle fuori siamo quindi agli ultimi testimoni di Johnny siamo quindi agli ultimi testimoni di Johnny uno che merita una menzione sicuramente è Christian Carino che è stato il l'agente sia di lei sia di lui in quegli anni quindi colui che insomma gestiva un pochino i loro lavori e quello che lui ha raccontato è che dopo aver registrato l'ordine di restrizione lei in realtà ha voluto rivedere Johnny ha insistito e l'ha fatto ovviamente tramite il loro agente perché era il modo per raggiungerlo perché lui si era reso irraggiungibile diciamo che anche lì uno si chiede stai finalmente uscendo dalla tua relazione tra l'altro ecco mi avete scritto si dice abusante non abusiva io proprio avendo tradotto da abusive l'ho tradotto come abusivo invece no è abusante a quanto pare non mi piace come parola ma la useremo sei uscita dalla tua relazione vabbè violenta finalmente stai chiedendo il divorzio che tu dici che proprio non vedevi l'ora di chiedere però lo vuoi rivedere ok lui Johnny non la vuole rivedere quindi ci mette un po' a rispondere e poi alla fine lui dice va bene e lui era a San Francisco per delle cose legate alle pubblicità che stava facendo e lei è volata con Christian Carino fino a San Francisco per parlare con lui e Christian Carino ha trovato tipo casa di un amico in cui potevano incontrarsi e quindi si sono vissi lì e poi non bastava neanche quel tempo quindi poi hanno preso un albergo quindi praticamente lei ha insistito per vedersi poi alla fine questo non ha portato a nulla nel senso che forse tra l'altro erano di nuovo litigato e a quel punto lui ha preso Amber e l'ha riportata a casa e in più sono venute fuori anche dalla sua tesimonianza dei messaggi con Amber perché erano proprio amici non si potrebbero considerare amici in cui lei si lamentava quando poi si è lasciata con Elon Musk che sappiamo c'è stata non si sa bene quando si è iniziata e comunque da questi messaggi con Christian Carino viene fuori che lei quando si lascia con Elon Musk dice non ne posso più che i giornalisti i paparazzi si interessino della mia vita eccetera e lui le risponde se tu non vuoi che ti rompano le palle smettila di uscire con persone famose esci con persone normali così almeno ovvio che se esci con Elon Musk o Johnny Depp mi sembra giusto che comunque e tu sei un'attrice comunque questo per dire che lei ha un po' questa tendenza al drama ecco per poi dire ah no ma io non c'entro niente io non voglio tutto questo ma passiamo a Edward White ovvero praticamente il commercialista penso si possa definire così di Johnny Depp che era con lui il giorno del compleanno di Amber Heard quando lei si è arrabbiata con Johnny allora hanno litigato allora lui è andato via allora lei gli ha lasciato un ricordino sul letto ed è partita per Coachella quella sera lì per inquadrarvela lui era con il suo commercialista in riunione perché stava scoprendo che tipo gli stavano fregando un sacco di soldi c'era una persona che gli stava fregando un sacco di soldi quindi un meeting importante ci sa che comunque abbia richiesto un po' di tempo il TUT e Edward White ha testimoniato che nonostante la gravità di tutto quello che stava succedendo lui in due occasioni è uscito per interagire con Amber perché appunto lei aveva organizzato questa scena per il suo compleanno e lui non era ancora arrivato tra l'altro ha anche testimoniato questa cosa poi ognuno la interpreta come vuole il budget dedicato all'acquisto di vino durante il matrimonio raggiungeva i quasi 10.000 dollari al mese e che dopo la fine cioè appena finito il matrimonio quel quel budget è calato tantissimo se non quasi azzerato quindi quello che vuole lasciare intendere e che quindi quei soldi per il vino erano spesi da Amber e non da Johnny poi sappiamo benissimo che Johnny ha abusato di alcol quindi non è che dobbiamo dare tutta la colpa a lei adesso però niente questo è quello che ci viene detto dal suo commercialista che comunque tra l'altro fin da subito è molto ostile si vede un testimone molto ostile verso Amber Heard quindi ed è meglio da quello che ho capito comunque cioè è meglio non avere questo tipo di testimonianze comunque che dimostrano un pregiudizio che dimostrano un bias è meglio avere il più possibile dei testimoni che sembrino almeno sembrino neutrali poi ovviamente sono chiamati da una parte o dall'altra quindi cioè fanno il gioco di uno dell'altra parte però giustamente sarebbe meglio evitare ma arriviamo a questo punto a una parte molto interessante che riguarda il divorzio perché lui appunto era responsabile di anche questo è stato responsabile anche di questo e quindi ha detto che inizialmente Amber Heard ha chiesto 3 milioni per poi chiederne 4 poi 5 poi 14 per poi finire a 7 milioni questi 7 milioni lei ha dichiarato sia in varie interviste sia sotto giuramento nel caso nel come si diceva nella deposizione che ha fatto per il caso in UK lei ha dichiarato che quei soldi lei li avrebbe donati tutti metà quindi 3.5 milioni alla ACLU ovvero l'Unione Americana per le Libertà Civili e l'altra metà al Children's Hospital quindi all'ospitale dei bambini questo dichiarato da lei cioè nessuno tra l'altro le ha detto devi farlo cioè l'ha deciso lei quindi tra poco entriamo nel merito di questa questione ma lui anticipa questa cosa arriviamo quindi a Terence Doherty ovvero uno dei membri della ACLU di cui parlavamo poco fa a cui teoricamente Amber Heard dovrebbe aver donato 3.5 milioni di dollari ovviamente questi 3.5 milioni non sono mai arrivati che cosa ha ricevuto l'ACLU ha ricevuto 100.000 dollari dal conto di Johnny Depp a nome di Johnny Depp e Amber Heard scusate stanno facendo i lavori fuori ma ho già aspettato fin troppo che smettessero non smettono quindi purtroppo ce li becchiamo tutti poi sì così mi sembra un po' esagerato però eh dopo questi 100.000 dollari di Johnny Depp ne ha ricevuti 350.000 da Amber Heard e poi ne ha ricevuti altri 500.000 da un conto pressa nome se ho capito bene poi è in inglese quindi vi giuro poi non ci capisco niente di finanza cose economiche zero quindi cerco di penso di aver capito comunque questo conto che non si sa di chi sia ma che per stessa ammissione di questo testimone si pensa sia di Elon Musk quindi Elon Musk ha donato mezzo milione di dollari in nome di Amber Heard quindi loro hanno ricevuto 950.000 dollari tutti i restanti non si sa dove siano e ha detto che proprio gli era stato comunicato dal team di Amber Heard che lei stava avendo dei problemi economici e quindi non gli poteva dare quei soldi che aveva promesso di dare e che aveva detto già che aveva già dato sia in varie interviste in tv sia per la diposizione per il caso contro il De Sano ma non scopriamo solo questo perché ovviamente essendolo un testimone ha fornito anche delle prove e come prova ha fornito uno scambio di email che c'è stato tra i legali della ACLU e Amber Heard per quanto riguarda l'articolo scritto da lei visto che nell'articolo non è mai citato Johnny Depp e loro stanno dicendo che non è vero che ha rovinato la sua carriera con questo articolo invece lui sostiene di sì in questa mail sono presenti delle evidenti prove che dimostrano che quell'articolo è stato scritto proprio pensando a Johnny Depp e che tra l'altro poteva essere un'ottima pubblicità per Amber Heard che era appena uscita o stava per uscire insomma con il film Aquaman e questa è una cosa estremamente interessante perché i legali di Johnny Depp dovevano e l'hanno fatto in questo modo dimostrare actual malice ovvero malizia intenzionale quindi che lei aveva un movente per scrivere questo articolo e il movente è guadagnarne fama interesse per il suo film e in generale per la sua carriera quindi loro hanno dimostrato in questo modo molto intelligente secondo me perché l'hanno fatto dire a una persona che effettivamente ha riportato delle prove che c'era un movente c'era l'intenzionalità di essere sensazionali e di mettere Johnny Depp in cattiva luce per fare invece per mettere in bella luce Amber Heard abbiamo ancora una testimonianza dall'autista di Johnny Depp e anche di Amber Heard della sera del compleanno di lei lui dice che è andato via verso le 11 e un quarto che Johnny non era ancora tornato a casa quando è tornato il giorno dopo per prendere tutta la combricola e portarli al coacella lei gli ha detto che loro due Johnny non c'era lei gli ha detto che avevano avuto una grande litigata e che lui le aveva tirato il telefono giù dal balcone dell'attico e allora l'aveva fatto anche lei insieme alle sue chiavi e il suo passaporto quindi lei aveva lanciato le sue chiavi il suo telefono e il suo passaporto perché lui le avrebbe lanciato il telefono giù dal coso c'è da notare che lei il telefono in quel momento ce l'aveva in mano ed era intatto questo riportato proprio dal testimone al che lui prende e va a cercare le cose di Johnny Depp e le trova in mano a un senza tetto c'è comunque queste cose queste scene io me le immagino anche un po' comiche c'è comunque un senza tetto con in mano il telefono le chiavi il portafoglio no forse non era passaporto era il portafoglio di Johnny Depp vabbè comunque riesce a recuperarle e li porta al coacello dove sta con loro tutto il tempo e riporta che Amber abbia fatto uso di parecchio vino rosso e funghetti simpatici fino a stare male quindi questo supporta anche un po' le prove che avrebbero portato i legali di Johnny Depp sul fatto che in realtà fosse anche lei facesse abuso di sostanze e che quindi anche lei fosse violenta per questo e che questo quindi non l'abbia aiutato nella disintossicazione che quindi si è andato un po' anche a sfavore di lui arriviamo quindi agli ultimi testimoni per Johnny e sono stati chiamati proprio questi perché volevano un po' sigillare la loro accusa che è prettamente quella della sua reputazione che è stata rovinata dall'articolo perché devono rimanere il più possibile focalizzati su questo per vincere questa causa quindi per farlo hanno portato un ex agente di Johnny che ha testimoniato dicendo che assolutamente lui ha perso molti ingaggi a causa di quell'articolo che dopo l'uscita di quell'articolo ha subito le conseguenze di questa cosa purtroppo quello che vi dicevo prima è che se un testimone parla troppo rischia di aprire le porte a delle cose che la controparte vuole che citi perché in questo modo possono appellarsi a queste cose per farle entrare nelle prove mi sto esprimendo molto male ma capitemi sto cercando di tradurre dall'inglese mentre parlo e purtroppo questo testimone ha parlato o comunque ha citato degli altri articoli che sono usciti riguardo Johnny Depp quindi la controparte nella cross examination ha preso questa palla al balzo per leggere tutti i titoli sensazionalistici riguardanti Johnny Depp e i suoi abusi e il fatto che non fosse più ben visto nel mondo di Hollywood quindi questo testimone è stato un pochino debole quella successiva invece sicuramente ha aiutato di più Johnny è di Richard Marks ovvero un avvocato di Hollywood che ha lavorato in varie case di produzione tra cui anche la Disney che ha dato un po' di contesto alle regole non scritte magari di Hollywood quindi se un attore o un'attrice viene seguito da voci negative ovviamente questo influirà per forza sulla sua reputazione e anche quindi sulla possibilità di venire ingaggiati per dei film è proprio quello che sta dicendo il team di Johnny in tutto ciò io mi sono accorta che non mi piaceva per niente il trucco che stavo facendo e soprattutto il primer che usato non andava bene quindi ricominciamo stavo parlando di Richard Marks e quindi sostiene che sicuramente le voci non possono le voci negative non possono fare altro che portare cattiva luce sull'artista invece per quanto riguarda insomma i giornaletti tra cui anche lui sostiene il The Sun quindi lo definisce un giornale proprio di serie B i titoli sensazionalistici di queste testate non interessano a Hollywood perché di solito le accuse che riportano sono fatte per fare gossip quindi non si fa troppo affidamento a queste cose invece il Washington Post no il Washington Post è un giornale di tutto rispetto quindi quando è uscito l'articolo di Amber Heard Hollywood si è proprio sentita chiamata in causa perché lei nel suo articolo sembra proprio accusare Hollywood di aver coperto e in generale idolatrato un violento e qualcuno che fa cose orribili cioè veramente le cose di cui lei lo accusa sono orribili terrificanti e tra l'altro sono anche cose che tantissime donne purtroppo subiscono quindi se le accuse che lei ha fatto non sono vere e finora non abbiamo visto prove che lo dimostrino è veramente grave per chi invece le subisce crea un precedente di una persona che racconta bugie su una cosa così importante non sto dicendo che lei stia raccontando bugie sto dicendo che non ci sono prove attenzione perché ovviamente non voglio sparare sentenze cioè se sono vere le accuse che lei fa lui dovrebbe stare in prigione a vita ergassolo veramente perché lo accusa di cose gravissime ed entreremo in questa cosa tra un pochino quindi ritornando a noi avendo lei accusato velatamente ma non poi così tanto Johnny Depp di VD e VS ovviamente Hollywood non ha potuto fare altro che strometterlo da 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 tutte le grandi produzioni e non ha cioè non ha potuto fare altro perché questo è quello che si fa quando vengono mosse queste accuse soprattutto la Disney che quindi è la casa di produzione di Pirate dei Caraibi è una casa di produzione di film per bambini di cartoni cioè non può minimamente legare il proprio nome a quello di una persona a cui vengono mosse queste accuse quindi questo sicuramente va a supporto della causa di Johnny Depp quando gli viene chiesto dell'abuso di sostanze dell'abuso di alcol del fatto che fosse sempre ritardo sul set magari a volto ubriaco che sono un po' le cose che servono alla difesa di Amber Heard per sostenere che la sua carriera si fosse già rovinata da sola se la fosse rovinata lui con le sue stesse mani lui risponde che in realtà dalle superstar cioè nei confronti dei superstar tutte le grandi case di produzione chiudono sempre un occhio verso le loro eccentricità quando magari loro sono in ritardo sul set ne approfittano per fare altre riprese cioè non viene mai vista come una cosa veramente come un problema e lui ha anche detto e poi non era così grave come la state mettendo ecco cioè lui è un professionista quindi in realtà proprio perché è Johnny Depp ed è un così bravo attore la produzione chiudeva un occhio se magari arriva in ritardo e in generale sì anche se magari beveva la mattina cosa che sicuramente non gli fa onore nessuno sta dicendo questo e lui stesso lo ammette e quindi per questo lui stesso dice io mi sono disintossicato e ho fatto rehab il problema era che quando stava con Amber non riusciva perché lei lo riportava nel tunnel e quando anche provava a disintossicarsi lei magari non gli dava le medicine quando lui le chiedeva insomma abbiamo un po' capito no? come funzionava questa manipolazione da parte di lei arriviamo così praticamente al penultimo testimone ma considerato che l'ultima testimonianza era una testimonianza registrata pressoché inutile della dell'infermiera di Amber Heard diciamo che questa era l'ultima quindi quella che doveva chiudere col botto per lasciare la giuria quasi certa del fatto che insomma che tutte le cose erano al loro posto che tutte le prove c'erano il problema è che non è andata proprio così è stato chiamato da Gbagna ovvero un esperto informatico che è stato chiamato per leggere i dati analitici relativi al al tracollo della carriera di Johnny quindi lui è stato chiamato proprio a testimoniare o meglio a dimostrare con i dati che l'indice di gradimento di Johnny Depp è calato dopo prima dopo le accuse del 2016 quando lei ha fatto ha registrato l'ordine di restrizione e poi dopo il 2018 dopo l'articolo del 2018 quindi mentre lui parlava mentre li presentava questi dati insomma tutto molto credibile quasi inattaccabile diceva beh di fronte a questi dati cioè come potranno difendersi no? ecco il problema è che questo esperto non aveva fatto i compiti nel senso che lui ha presentato questi dati ma ha letto letteralmente solo quei quattro dati che servivano senza soffermarsi su tutti gli altri quindi lui magari ha letto i picchi e i picchi in giù quindi la discesa il tracollo per quanto riguarda i google trends le ricerche su google del nome di Johnny Depp e in generale appunto questo indice di gradimento ma senza confrontarli praticamente con altri momenti della sua vita in cui magari ci sono stati dei tracolli non dovuti ad Amber Heard e purtroppo in questo caso la cross examination è stata veramente veramente efficace perché sono riusciti praticamente a portare il discorso sul fatto che questo testimone non fosse attendibile e non avesse fatto il suo dovere al meglio e che quindi quei dati fossero comunque stati presi un po' decontestualizzati e per questo fossero cioè inutilizzabili o comunque non utili a capire se effettivamente la sua carriera abbia avuto un tracollo dopo l'articolo questa è la gaia del futuro che vi parla in realtà l'accusa si è conclusa con un ultimo testimone che è stato molto efficace è stata la testimonianza di un esperto Michael Spindler ovvero un altro commercialista comunque esperto di finanza che ha testimoniato riguardo i danni che Johnny Depp avrebbe avuto effettivamente dopo l'articolo di Amber è stato in grado di mostrare grafici e dati molto utili e inattaccabili e ha dato anche un valore a questa perdita pari a 40 milioni quindi Johnny Depp ha fatto causa di Amber Heard per 50 milioni quindi si suppone che quei 10 milioni in più siano per danno personale nel complesso comunque un ottimo modo per chiudere e che mi ero persa ma passiamo alla difesa di Amber Heard che è cominciata e che tra l'altro sta andando in questo momento stanno facendo la cross examination del primo testimone e io me la sto perdendo e questa cosa è gravissima me la guarderò sicuramente poi un attimo indifferita perché è assolutamente da vedere praticamente tutti pensavano comunque io anche pensavo che avrebbe iniziato a testimoniare lei sono notati che è stata screditiamo la testimone forse migliore del caso di Johnny Depp che è stata la dottoressa Curry ovvero la psicologa forense che è stata chiamata dal team di Johnny Depp se vi ricordate per fare un'analisi di Amber Heard e alla fine di questi suoi esami ha dato una diagnosi anzi due ad Amber Heard e perché lei è stata chiamata innanzitutto è stata chiamata perché Amber sostiene che dopo il suo matrimonio con Johnny Depp lei soffra di PTSD ovvero di stress post-traumatico proprio per questa ragione perché lei sostiene questo il team di legale di Johnny Depp ha potuto chiamare una psicologa forense che le facesse una visita delle visite in realtà sono state tante ore insieme e lei ha detto che ha il borderline personality disorder e l'histrionic personality disorder quindi ne abbiamo parlato nel nostro corso video ecco questa nuova psicologa che è stata chiamata invece dai legali di Amber Heard la dottoressa Hughes è stata chiamata per confutare tutto ciò che è stato detto dalla dottoressa Curry la cosa divertente è che in due occasioni l'avvocato di Amber Heard ha sbagliato a chiamare la dottoressa l'ha chiamata la dottoressa Curry che è l'altra quindi vabbè ha fatto molto ridere onestamente vabbè al di fuori dei lapsus dell'avvocato entriamo nel merito di questa testimonianza che ve lo giuro cioè se non l'avessi vista e sentita con i miei occhi e sentita con le mie orecchie non ci crederei allora questa esperta vabbè prima ha recitato tutto il suo curriculum cosa che in realtà è giustissima perché serve per far capire alla giuria che la persona che sta parlando è davvero un'esperta nel suo settore quindi recita tutto il suo curriculum e l'ha ovviamente super qualificata poi le chiedono ma quindi Amber soffre di stress post-traumatico ovviamente sì assolutamente sì e questo stress post-traumatico non ha niente che vedere con la sua infanzia violenta perché lei tra l'altro Amber Heard ha detto ha riportato più volte che lei ha avuto un'infanzia violenta perché suo padre è stato violento nei suoi confronti sia verbalmente sia fisicamente sia ovviamente anche in altri modi terribili e assolutamente per questa psicologa tutto ciò non ha niente a che vedere con come sta Amber oggi va bene quindi lei sostiene che Amber soffra di stress post-traumatico a causa del matrimonio con Johnny Depp e che non sia non abbia disturbo borderline e istrionico di personalità ma che invece lui l'abbia manipolata controllata aggredita picchiata spaventata aggredita anche sessualmente abbia aggredito sua sorella sia stato veramente l'uomo più orribile della terra il tutto senza aver mai parlato mezza volta con Johnny Depp cioè lei non ha fatto una valutazione di Johnny dopo averci parlato aver passato del tempo con lui infatti la sua testimonianza e tutto la sua tutto ciò che lei ha detto sono udite udite solo parole riportate da Amber la sua intera testimonianza è stato un Amber mi ha raccontato questo per poi snocciolare una serie di cose terrificanti cioè veramente faccio fatica a dirvele perché sono terribili sostiene che lui abbia abusato di lei con vari oggetti infilandogli dove immaginiamo tutti che abbia usato anche le mani per farle del male proprio dall'interno che la prendesse per i capelli la sbattesse ripetutamente contro i muri che le tirasse qualsiasi oggetto addosso la cosa più grave cioè non è più grave perché già queste cose sono gravissime però durante tutta la sua deposizione questa testimone questa esperta la dottoressa Hughes ha parlato anche in generale di come funzionano le VD usando sempre il sostantivo maschile per parlare del perpetratore delle violenze e sempre il sostantivo femminile o gli aggettivi femminili per parlare della vittima quindi supponendo che le violenze possano essere solo degli uomini sulle donne veramente è andata avanti questa deposizione è andata avanti due ore lei per due ore ha detto perché quando lui fa questa cosa lei la donna reagisce così e che quindi se anche lei magari è stata violenta lo è stata per difesa sempre solo per difesa mai per attacco e tutte le cose che lei elencava lui avesse fatto a lei oppure che in generale gli uomini fanno alle donne erano esattamente tutte le cose che finora testimoni vari testimoni più Johnny hanno detto che lei ha fatto a lui erano veramente tutte lì la manipolazione il controllo le crisi il lanciare le cose il picchiare tutte tutte queste cose sono state veramente ci sono stati 13 giorni di deposizioni in cui tutto questo è stato accreditato a lei con anche supporto di audio video oltre che tutte le persone che visivamente hanno visto queste cose lei stessa ha portato fuori il discorso dell'Australia se vi ricordate è stato quel viaggio in cui lui ne è uscito con un dito reciso da lei che gli ha lanciato una bottiglia e di questo c'è anche un audio c'è l'audio di lei che dice no scusami scusami non volevo colpirti scusami scusami non volevo farti male lei sostiene che lei in Australia sia stata violenta sessualmente da Johnny Depp con una bottiglia forse anche rotta ok ovviamente la faccia di Johnny durante queste accuse era veramente se uno sguardo potesse uccidere ma anche i suoi legali i suoi legali ci sono state tantissime interruzioni sono andati alla sbarra hanno parlato eccetera perché praticamente tutta questa riposizione è stata un hearsay ovvero cose per sentito dire lei ha riportato lei come se avesse testimoniato a nome di Amber ma visto che è un'esperta l'ha potuto fare non le si può dire niente perché lei ha il titolo per dire queste cose ovviamente stiamo aspettando e penso sia già partita la cross examination in cui penso e spero che i legali di Johnny se la mangino viva perché praticamente lei ha supposto per tutto il tempo che la violenza sia solo dagli uomini verso le donne questa cosa è gravissima comunque ha stereotipato veramente l'aggressore come l'uomo e la vittima come la donna quando è così in tantissimi casi nella maggior parte dei casi è vero ma non è così sempre e purtroppo è proprio quello che è proprio quello il gioco che ha fatto Amber Heard se le sue accuse sono false cioè lei ha pensato tanto io sono una donna nessuno ti crederà e c'è un audio anche di questo c'è un audio in cui lei dice prova a dire prova a dire alla gente io Johnny Depp un uomo sono vittima di 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 vabbè in inglese di di cioè glielo glielo ho anche detto nessuno ti crederà e e questa esperta questa psicologa sta proprio supponendo questo in sostanza noi la versione di Amber ancora non l'abbiamo sentita dalla sua bocca l'abbiamo sentita dalla psicologa e questa cosa è veramente 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 grave e quindi non so a me rafforza proprio l'idea che lei stia mentendo cioè che lei abbia mentito tutte le cose che questa esperta ha detto sono letteralmente fatte riportate da lei e basta non ha prove in mano non le ha cioè ha anche detto ah sì io ho letto le notes quindi gli appunti del medico di quell'altro nessuno l'ha certificata con la borderline personality quindi quello che ha detto la dottoressa Curry è assolutamente sbagliato cioè è oggettivamente sbagliato poi ci può anche stare che sia così non lo so io non sono una psicologa però non lo so a sentire gli audio a vedere i video cioè lei non sembra una persona equilibrata ma io penso anche a lei no? se lei non sta bene perché a me non sembra che sia benissimo non le fa bene che che qualcuno le dica no? hai ragione quindi io adesso scappo a vedere come continua tutto questo e sono certa che mi risponderete di sì ma fatemi sapere se volete l'update dopo qualche giorno di testimonianze a favore di Amber così vediamo un pochino analizziamo un po' le testimonianze vediamo se ci saranno delle prove se ci portano delle prove se possiamo crederle in generale fatemi sapere voi cosa ne pensate io fino ad adesso sono convinta del fatto che lei abbia mentito e che lui abbia ragione che davvero non le abbia fatto mai fisicamente male ma che sia sicuramente una persona con un passato decisamente violento e che spero ma sono sicura che si sia fatto aiutare e si stia facendo aiutare ma mai verso qualcuno ma mai verso di lei soprattutto se siete arrivati a questo punto del video direi di commentare con una bella emoji arcobaleno come i miei capelli bellissimi li amo e noi ci vediamo nel prossimo video peace out in realtà ho scoperto che adesso ci saranno 10 giorni di pausa durante questo processo per poi ripartire con le ultime due settimane quindi lei ha iniziato la sua testimonianza vediamo come va la giornata di oggi e così capisco se farvi già un video con la sua testimonianza o se aspettare poi che ci siano altri testimoni ecco a voi ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di basic gaia molto spesso comunque no ecco a voi Grazie a tutti